morgan ha condiviso su instagram un nuovo inedito dal titolo ano se il nome del singolo fa sorridere ancora più strano è il modo in cui è stato pubblicato il cantante lombardo con un post ha lanciato una sfida ai fan raggiunti i 400 lo voglio pubblicherò il brano in alta qualità in meno di un'ora è stato raggiunto il traguardo prefissato e l'artista ha mantenuto la promessa rilasciando l'inedito